Not true, non è vero. Nega tutto in aula Desmond Lachie dal fatto di essere andato a casa di Nocento Osegale il 30 gennaio al fatto di averlo visto e di aver tentato di avere un rapporto sessuale con Pamela Mastropietro. Non conferma neanche tutto ciò che è emerso dalle dichiarazioni di Osegale stesso e dalle intercettazioni avvenute in carcere. Lachie, assistito dall'avvocato Gianfranco Vorgani, ha anche negato di aver spacciato droga a Pamela come riferito da Osegale. Prima di lui al processo è stato sentito anche Lachie Awelima che come Desmond era stato indagato per l'omicidio della diciottene romana ma per entrambi la procura ha chiesto l'archiviazione. Anche Awelima ha negato di essere stato a casa di Osegale, emerso nell'arco dell'udienza anche intercettazioni shock non confermate dai due tra cui una in cui Desmond Lachie diceva che Osegale già in Nigeria aveva fatto a pezzi altre donne. Lachie Awelima si è contraddetto su tutto quello che era il contenuto delle intercettazioni svolte in carcere. Allora qui o gli interpreti incaricati non hanno capito nulla nelle traduzioni o è lui che mente. Io continuo a dire che qui il tema di indagine si dovrebbe ampliare a quella che viene definita mafia nigeriana. Noi continuiamo a dire che Pamela purtroppo è la punta dell'iceberg, qui c'è qualcosa di molto più grande, di molto più profondo, di molto più criminale. Ricordiamoci sempre che sono soggetti che tecnicamente non sono nemmeno testimoni, quindi le loro dichiarazioni vanno comunque valutate in un certo modo, bisogna sempre di elementi di riscontro, non si può affondare assolutamente una pronuncia di colpevolezza sulla base di dichiarazioni di soggetti che sono stati e che sono ancora indagati. Tra le testimonianze ascoltate in aula anche quella di Anjan Vuentoni a cui Osegale telefonò il 30 gennaio chiedendogli aiuto in due differenti telefonate perché Pamela non si svegliava. L'uomo a 40 anni ha detto che con Osegale erano amici e si sentivano spesso in quell'occasione e avrebbe consigliato di chiamare il 118. La sera lo avrebbe chiamato due volte ma senza avere risposta. Ha poi negato anche lui di aver incontrato il connazionale il 30 gennaio. Anche per lui, come per l'Akia e Welima, è stata chiesta l'archiviazione. Tra i test è anche la criminologa Roberta Abruzzone che ha svolto un'autopsia psicologica su Pamela Mastropietro. Per l'Abruzzone Pamela non era in condizioni di prestare consenso in merito all'uso di sostanze stupefacenti o richieste sessuali. Era stand-by sotto il profilo cognitivo decisionale.